ESP, Fenomeni Paranormali, il rivale di Paranormal Activity, da domani in sala. Per tutti gli amanti della pellicola in stile Macamantary, da domani, primo giugno, debutterà nelle nostre sale l'altestissimo ESP, Fenomeni Paranormali, esordio sul grande schermo della coppia di registi Vicious Brothers. Interpretato da Sean Rogerson, Warren Ridinger, Mervyn Mondesire e Mackenzie Gray, il film è stato ideato e realizzato sulla falsariga di pellicole precedenti, che, negli anni passati, sono riuscite ad attirare favorevolmente le attenzioni del pubblico mondiale, in particolare degli amanti del genere horror. Basta pensare a film come The Blair Witch Project o Wreck, o meglio ancora, il più recente Paranormal Activity. Così, realizzato interamente in un'inquietante soggettiva, ESP, Fenomeni Paranormali, narra le vicende di una truppa televisiva che, con l'obiettivo di portare sullo schermo una sorta di reality in stile horror, si chiuderà in un vecchio ospedale psichiatrico infestato da fantasmi e strane presenze. Inutile dire che in breve tempo i protagonisti avranno a che fare non solo con presenze paranormali, ma con la loro stessa sanità mentale, messa a rischio dai terrificanti avvenimenti che si svolgeranno all'interno dell'edificio e di fronte alla telecamera. La trama ricorda un po' la pellicola del 2001 di Brad Anderson, Session 9. Dunque, sembrerebbe che ESP, Fenomeni Paranormali, abbia riunito in un unico prodotto tutte le parti più scure e terrificanti di una serie di pellicole precedenti. Realizzando così un film in grado di richiamare tutte le paure e le vicende più inquietanti del genere horror degli ultimi dieci anni. Insomma, preparatevi ad assistere a un film che probabilmente non regalerà sogni tranquilli. In attesa che ESP arrivi in sala, date un'occhiata alla clip che vi segnaliamo a fine articolo e fateci sapere cosa ne pensate dell'ennesima pellicola in stile horror reality pronta a debuttare al cinema domani 1 giugno.